Nel XIII secolo visse in Francia un uomo tra le figure più geniali e scellerate di quell'epoca non povera di geniali e scellerate figure. Qui sarà raccontata la sua storia. Si chiamava Jean-Baptiste Grenouille e se il suo nome, contrariamente al nome di altri mostri geniali quali Desade, Saint-Just, Fouché, Bonaparte eccetera, oggi è caduto nell'oblio, non è certo perché Grenouille stesse indietro a questi più noti figli delle tenebre per spavalderia, disprezzo degli altri, immoralità e impietà insomma, bensì perché il suo genio e unica ambizione rimase in un territorio che nella storia non lascia traccia nel fugace regno degli odori. Al tempo di cui parliamo, nella città regnava un puzzo astento immaginabile per noi moderni. Le strade puzzavano di letame, i cortili interni di orina, le trombe delle scale di legno marcio e di sterco di ratti, le cucine di cavolo andato a male e di grasso di montone. Le stanze non aerate puzzavano di polvere stantia, le camere da letto di lenzuola bisunte, dell'umido dei piumini e dell'odore pungente e dolciastro di vasi da notte. Dai camini veniva puzzo di zolfo, dalle concerie veniva il puzzo di solventi, dai macellai puzzo di sangue rappreso. La gente puzzava di sudore e di vestiti non lavati, dalle bocche veniva un puzzo di denti guasti, dagli stomaci un puzzo di cipolla e dai corpi, quando non erano più tanto giovani, veniva un puzzo di formaggio vecchio e latte acido e malattie tumorali. Puzzavano i fiumi, puzzavano le piazze, puzzavano le chiese, c'era puzzo sotto i ponti e nei palazzi, il contadino puzzava come il prete, l'apprendista come la moglie del maestro, puzzava tutta la nobiltà, perfino il re puzzava, puzzava come un animale feroce e la regina come una vecchia capra, sia d'estate sia d'inverno. Infatti nel XVIII secolo non era stato ancora posto alcun limite all'azione disgregante dei batteri e così non vera attività umana, sia costruttiva sia distruttiva o manifestazione di vita in ascesa o in declino, che non fosse accompagnata dal puzzo. E naturalmente il puzzo più grande era Parigi, perché Parigi era la più grande città della Francia e all'interno di Parigi c'era poi un luogo dove il puzzo regnava più che mai infernale, tra Rue Aufer e Rue de la Forronnaire, e cioè il Cimetière des Innocents. Per 800 anni si erano portati qui i morti dell'ospetale Hotel Dieu e delle parrocchie circostanti. Per 800 anni, giorno dopo giorno, dozzine di cadaveri erano stati portati qui, coi carri e rovisciati in lunghe fosse. Per 800 anni, in cripte e ossari, si erano accumulati strato su strato, ossa e ossicini. E solo più tardi, alla vigilia della Rivoluzione Francese, quando alcune fosse di cadaveri smottarono pericolosamente e il puzzo del cimitero straripante indusse i vicini non più a semplici proteste, bensì a vere e proprie insurrezioni, il cimitero fu definitivamente chiuso e abbandonato. E milioni di ossa e di teschi furono gettati a palate nelle catacombe di Montmartre e al suo posto sorse una piazza con un mercato alimentare. Qui dunque, nel luogo più puzzolente di tutto il regno, il 17 luglio 1738, nacque Jean-Baptiste Grenoie. Era uno dei giorni più caldi dell'anno. La calura pesava come piombo sul cimitero e spingeva i miasmi della putrefazione, un misto di meloni marci e di corno bruciato, nei vicoli circostanti. La madre di Grenoie, quando le presero le doglie, si trovava all'esterno di un bugigattolo di pesci vendolo in Rue-au-Faire e stava squamando dei pesci bianchi che aveva appena sventrato. I pesci, prescati presumibilmente nella senna la mattina stessa, puzzavano già tanto che il loro odore copriva l'odore dei cadaveri. Ma la madre di Grenoie non percepiva né l'odore dei pesci né quello dei cadaveri, perché il suo naso era in larghissima misura insensibile agli odori e, a parte questo, il suo corpo era dolorante e il dolore soffocava ogni capacità di ricevere impressioni dall'esterno. Voleva una cosa sola, che il dolore finisse, voleva liquidare il più presto possibile questo parto disgustoso. Era il suo quinto. I quattro precedenti li aveva sbrigati fuori del bugigattolo di pesci vendolo e tutti e quattro i bambini erano nati morti o mezzomorti, perché la carne sanguinolenta che usciva da lei non era molto diversa dall'interiore del pesce là sul banco e la sera, tutto insieme, veniva spalato via e trascinato col carro al cimitero o giù al fiume. Così sarebbe andata anche oggi e la madre di Grenoie, che era ancora una giovane donna, giusto sui 25, che era ancora molto carina e aveva ancora quasi tutti i denti in bocca e un po' di capelli in testa e tranne la gotta e la sifilide e una leggera tisi, non aveva nessuna malattia grave che sperava ancora di vivere a lungo, forse 5 o 10 anni o forse persino di arrivare a sposarsi e avere figli veri come moglie rispettabile di un artigiano vedo o qualcosa di simile, la madre di Grenoie avrebbe voluto che tutto fosse già passato e quando cominciarono le doglie si accucciò sotto il banco da macello e partorì là, come le quattro volte precedenti e con il coltello da pescivendolo troncò il cordone ombelicale alla cosa appena nata. Ma subito dopo, a causa della calura e del puzzo che lei non percepiva in quanto tali bensì soltanto come un qualcosa di insopportabile che la stordiva come un campo di gigli o una camera angusta in cui ci siano troppi narcisi, perse i sensi, si rovesciò su un fianco, scivolò da sotto il banco in mezzo alla strada e la giacque con il coltello in mano. Grida. Un gran corrente, un gran correre di gente. La folla in cerchio con tanto d'occhi si chiama la polizia. La donna con il coltello in mano è ancora là sulla strada, a poco a poco ritorna in sé. Che cosa le è successo? Niente. Che cosa fa con il coltello? Niente. Da dove viene il sangue che ha sulle gambe? Dei pesci. La donna si alza, getta via il coltello e va a lavarsi. In quel momento, inaspettatamente, là sotto il banco la cosa appena nata comincia a urlare. Vanno a vedere, sotto uno sciame di mosche e fra interiore e teste di pesci troncate, scoprono il neonato. Lo tirano fuori. Lo consegnano d'ufficio a una balia. La madre è arrestata e poiché Rea confessa e ammette senz'altro che avrebbe di certo lasciato crepare quella cosa, come del resto ha già fatto con le quattro precedenti, le fanno il processo. La condannano per infanticidio plurimo e qualche settimana dopo le tagliano la testa in place de grave. A questo punto, il bambino aveva già cambiato balia tre volte. Nessuna voleva tenerlo più di qualche giorno. Era troppo vorace, dicevano. Succhiava per due, sottraeva il latte agli altri poppanti e conciò il sostentamento a loro. Le balie, dal momento che un solo poppante non poteva costituire un allattamento redditizio, l'ufficiale di polizia competente, un certo Lafosse, si stancò ben presto della faccenda e aveva già l'intenzione di far portare il bambino al luogo di raccolta per trovatelle e orfani nella periferica Rue Saint-Antoine, da dove ogni giorno partivano trasporti di bambini diretti al grande Beffotrofrio statale di Rue. Ma poiché questi trasporti erano eseguiti da facchini per mezzo di gerle di vimini in cui, per motivi di funzionalità si ficavano fino a quattro lattanti alla volta poiché di conseguenza il tasso di mortalità per strada era straordinariamente alto poiché per questo motivo gli uomini con le gerle erano tenuti a trasportare soltanto lattanti battezzati e soltanto quelli muniti di una regolare bolla di trasporto che doveva essere poi timbrata a Ruen poiché il piccolo Crenoi non era stato battezzato né ancora possedeva un nome che si potesse registrare come prescritto sulla bolla di trasporto poiché infine sarebbe stato un po' sconveniente per la polizia deporre in incognito un bambino davanti alla porta del luogo di raccolta sola cosa che avrebbe reso superfluo ademplimento delle restanti formalità per una serie di difficoltà di natura burocratica e tecnico-amministrativa dunque che sembravano sorgere per il trasferimento del neonato e poiché anche il tempo stringeva l'ufficiale di polizia la FOS pensò bene di desistere dal suo intendimento d'origine e diede ordine di consegnare il fanciullo a qualche istituto religioso affinché là lo battezzassero e decidessero della sua sorte riuscirono a liberarsi di lui al convento di Saint-Marie in rue Saint-Martin là il bambino ricevette il battesimo e il nome di Jean-Baptiste e già che il priore quel giorno era di buon umore e i suoi fondi per la beneficenza non erano ancora esauriti anziché spedire il bambino a Rouen si decise di nutrirlo e allevarlo a spese del convento a tal fine lo consegnarono in rue Saint-Denis a una balia di nome Jean-Bussy che fu ricompensata per le sue fatiche con 3 franchi la settimana fino a nuovo ordine qualche settimana dopo la balia Jean-Bussy era davanti alla porta del convento di Saint-Marie con un canestro infilato al braccio e quando padre Terriere un monaco cinquantenne calvo che emanava un lieve odore d'aceto le aprì la porta disse ecco qua e depose il canestro sulla soglia che cos'è? chiese Terriere e si chinò sul cesto e lo annusò poiché sperava che contenesse qualcosa di commestibile il bastardo dell'infanticida di Ruffer il frate frugò col dito nel canestro e scoprì la faccia del lattante che dormiva ha un bel aspetto rosio e ben nutrito perché si è ingozzato a mie spese perché mi ha prosciugata fino all'osso ma adesso basta adesso potete continuare a nutrirlo con latte di capra pappe succo di rape fa fuori tutto il bastardo padre Terriere era un uomo alla buona di sua competenza erano l'amministrazione dei fondi per beneficenza del convento e la distribuzione del denaro a poveri e bisognosi e per questo si aspettava che gli dicessero grazie e poi smettessero di importunarlo dettagli tecnici gli erano invisi perché dettagli significavano sempre difficoltà e difficoltà significavano un disturbo della sua pace interiore e questo non poteva sopportarlo si arrabbiò già per aver aperto la porta desiderava che questa persona si prendesse il suo canestro e andasse a casa e lo lasciasse in pace con i suoi problemi dilattanti si rizzò lentamente e aspirò in una sola volta il profumo di latte e di caccio e di lana di pecora che emanava dalla balia era un profumo gradevole io non capisco cosa vuoi proprio non capisco dove vuoi andare a parare posso soltanto supporre che a questo lattante non farebbe affatto male stare attaccato al tuo petto ancora per un bel pezzo a lui no strepitò la balia di rimando ma a me sì dieci libri ho perso eppure ho mangiato per tre e perché cosa per tre franchi la settimana ah capisco disse terriere con un certo sollievo adesso mi è chiaro dunque si tratta ancora di soldi no disse la balia ma certo sempre si tratta di soldi quando bussano a questa porta si tratta di soldi ogni tanto vorrei venire ad aprire e che qui davanti ci fosse una persona con cui si trattasse di qualcos'altro qualcuno per esempio che portasse un piccolo presente per esempio un po' di frutta o un po' di noci da autunno ci sono una quantità di cose che si potrebbero portare fiori magari o solo che venisse qualcuno e dicesse cordialmente l'odio a dio padre terriere le auguro una buona giornata ma è una cosa che non mi capiterà probabilmente mai più se non è un mendicante è un commerciante e se non è un commerciante è un artigiano e se non chiede l'elemosina presenta però un conto non posso neanche più farmi vedere per strada quando vado in strada dopo tre passi sono assediato da individui che vogliono denaro non io disse la balia ti dirò comunque una cosa non sei la sola balia nel circondario ci sono centinaia di madri adottive di primo ordine che per tre franchi la settimana si faranno in quattro per attaccarsi al petto questo grazioso lattante o per somministrargli pappe succhi o qualsiasi altro cibo allora datelo a una di queste d'altra parte non è giusto sbattere un bambino di qua e di là in questo modo chissà se crescerebbe così bene con un latte diverso dal tuo è abituato al profumo del tuo petto sappilo e al battito del tuo cuore e di nuovo ispirò a fondo il caldo odore che diffondeva la balia e poi quando si accorse che le sue parole non le avevano fatto nessuna impressione disse adesso prendi il bambino e portala a casa parlerò della faccenda col priore gli proporrò di darti quattro franchi la settimana per l'avvenire no disse la balia e va bene allora cinque no ma quanto vuoi ancora la sgridò Terriè cinque franchi sono un mucchio di soldi per il compito insignificante di allattare un neonato non voglio affatto soldi disse la balia voglio togliermi di torno il bastardo e perché mai cara perché mai cara la mia donna disse Terriè e armeggiò di nuovo con le dita nel canestro è proprio un bimbo grazioso è tutto rosio non piange dorme tranquillo ed epatezzato è posseduto dal demonio Terriè tolse di scatto le dita dal canestro impossibile è assolutamente impossibile che un lattante sia posseduto dal demonio un lattante non è un uomo bensì un embrione di uomo e possiede un'anima ancora incompleta di conseguenza non è interessante per il demonio parla già forse ha le convulsioni sposta oggetti nella stanza ha un cattivo odore non ha nessun odore disse la balia ecco vedi questo è un segno inequivocabile se fosse posseduto dal demonio dovrebbe puzzare e per tranquillizzare la balia e nel contempo dar prova del proprio coraggio Terriè sollevò il canestro e se lo mise sotto il naso non sento niente di particolare disse dopo aver annusato per un momento proprio niente di particolare ad ogni modo mi sembra che dalle fasce provenga un certo odore e le tese il canestro perché lei gli desse una conferma non è questo disse la balia brusca e allontano il canestro da sé non intendo parlare di quello che c'è nelle fasce i suoi escrementi hanno un buon odore è lui il bastardo che non ha odore perché è sano gridò Terriè perché è sano ecco perché non ha odore soltanto i bambini malati hanno odore questo si sa come è noto i bambini che hanno il vaiolo sanno di sterco di cavallo quelli che hanno la scarlatina di mele vecchie e i bambini tisici sanno di cipolla lui non ha malanni ecco che cosa non ha perché dovrebbe puzzare puzzano i tuoi figli no disse la baglia i miei figli hanno l'odore che tutti i bambini devono avere Terriè ridepose il canestro a terra con cautela poiché sentiva salire in lui le prime ondate di rabbia per la caparbietà di quella persona non era da escludersi che nel seguito della disputa avesse bisogno di tutte e due le braccia per gesticolare più liberamente e non voleva con questo danneggiare il lattante per il momento incrociò le mani dietro la schiena protese il suo ventre a punta verso la paglia e chiese se è vero dunque tu affermi di sapere che odore dovrebbe avere un bambino che comunque è pur sempre questo vorrei ricordartelo tanto più quando è battezzato una creatura di Dio sì disse la paglia e affermi inoltre che qualora non avesse l'odore che tu pensi dovrebbe avere tu la paglia jambussi di rue Saint-Denis significherebbe che è un figlio del diavolo protese in avanti la mano sinistra che teneva dietro la schiena e in gesto di minaccia le portò davanti al viso l'indice curvo come un punto di domanda la paglia riflettè non le andava bene che tutta un tratto la conversazione si trasformasse in un interrogatorio teologico nel quale lei non poteva che soccombere come non detto rispose la ziva che la faccenda abbia o no a che fare col diavolo deve deciderlo lei padre terriè non è mia competenza io so soltanto una cosa che questo lattante mi fa ribrezzo perché non ha l'odore che i bambini devono avere ecco disse terriè soddisfatto e lasciò ricadere il braccio questa storia del diavolo lasciamola perdere bene ma adesso dimmi per favore che odore ha un lattante quando ha l'odore che tu ritieni debba avere eh un odore buono disse la paglia che cosa significa buono la investite riegridando tante cose hanno un buon odore un mazzolino di lavanda ha un buon odore il lesso ha un buon odore i giardini d'arabia hanno un buon odore che odore ha un lattante voglio sapere la baglia esitò sapeva bene che odore aveva nei lattanti lo sapeva benissimo ne aveva nutriti curati cullati baciati a dozzine di notte poteva trovarli a naso l'odore del lattante l'aveva chiaro anche adesso nel naso ma non l'aveva mai definito con parole allora tornò terriè e fece schioccare con impazienza la punta delle dita dunque cominciò la baglia non è molto facile dirlo perché non hanno lo stesso odore dappertutto benché dappertutto abbiano un buon odore padre capisce prendiamo i piedi ad esempio li hanno un odore come di pietra calda liscia no no piuttosto di ricotta no oppure di burro di burro fresco proprio così sano di burro fresco i loro corpi hanno l'odore di una galletta una galletta quando è zuppata nel latte e la testa in alto dietro dove i capelli fanno la rosa qui guardi padre dove lei non ne ha più e tocco la pelata di terriè che per un attimo era rimasto senza parole di fronte a quel mare di stupidità in dettagli e aveva chinato docilmente la testa qui proprio qui hanno l'odore migliore qui hanno un odore di caramello così dolce così squisito lei non può immaginare padre una volta sentito quell'odore bisogna amarli che siano figli proprio di altri e questo è l'odore che devono avere i neonati questo è nessun altro e se non hanno questo odore se sulla testa non hanno nessun odore ancor meno dell'aria fresca come questo qui il bastardo allora può spiegarsela come vuole padre ma io e incrociò decisa le braccia sotto il petto e gettò uno sguardo talmente nauseato sul canestro ai suoi piedi come se contenesse rospi io jambessi questo qui non me lo riporto più a casa padre terrier riazzò il capo lentamente si passò un paio di volte il dito sulla pelata come per sistemarsi i capelli si mise il dito sotto il naso come casualmente e annusò pensieroso un odore di caramello disse e cercò di riprendere il suo tono severo caramello che ne sai tu del caramello ne hai forse mai mangiato non proprio rispose la baglia ma una volta sono stata in un grande albergo in l'usentonoré e sono stata a guardare come si faceva con zucchero fuso e crema di latte avevo un odore così buono che non l'ho più dimenticato già già d'accordo disse terrier e tolse il dito dal naso ora tacci per favore per me è oltremodo stancante intrattenermi ulteriormente con te a questo livello prendo atto che tu rifiuti quale che siano le ragioni di continuare a nutrire il lattante Jean-Baptiste Greneux che ti è stato affidato e con ciò lo restituisci al suo tutore provvisorio il convento di Saint-Marie trovo il fatto spiacevole ma non posso farci nulla sei licenziata dopodiché prese il canestro inspirò a fondo ancora una volta il caldo odore di latte e di lana che si andava di leguando e chiuse la porta con il chiavistello quindi si recò nel suo studiolo